Oltre 10.000 ristoranti tedeschi a rischio con l'aumento dell'IVA sugli alimenti. I prezzi dei generi alimentari torneranno infatti a salire a gennaio del 2024 per l'aumento dell'IVA nei ristoranti, dal 7 al 19%. Il governo tedesco non ha ancora deciso di estendere l'agevolazione introdotta durante la pandemia e in scadenza a fine 2023, che aveva abbassato l'imposta di oltre 10 punti percentuali. Gli operatori del settore ritengono che un ritorno alla vecchia aliquota nel contesto di un'economia ancora sofferente metterebbe a rischio moltissime attività. L'aliquota IVA sulla ristorazione e la gastronomia tornerebbe al 19% già a partire da gennaio. L'aliquota IVA in Berlín per l'euro News.